Questo festival è dedicato a Nani Balestrini, che ci ha lasciato questa settimana, lunedì, e volevamo ricordarlo con la testimonianza, con il pensiero della professoressa Cecilia Bello, che dirà solo qualche parola, leggerà qualche testo. Allora, buonasera a tutti. Sono grata agli organizzatori del festival per la dedica di questa occasione a Nani Balestrini, naturalmente. Un'occasione che avrebbe amato, come sempre, tutte le letture di poesia. Leggerò l'attacco del suo primo testo, Il sasso appeso. Ma dove stiamo andando col mal di testa la guerra e senza soldi, Oltre il tergicristallo ronzante, Denotando una reale e comune volontà di riscatto? Che sciocchezze! Nella folla di sghimbescio parve notare, Tutti compresi nei loro piedi. Ora comunque allunga le gambe, O a cavalla le bianche, Sbadiglia, guarda nel vetro la paglia che brucia, Il fiume se scorre verde scuro. Pensa a qualcosa, conta i paracarri, Fa quel che ti pare. Non c'è pericolo che non arriviamo, Pazienti, godiamoci il viaggio. Godiamoci, non c'è pericolo se ci perdiamo. Tanto non si viaggia. Il profilo di un paziente su un carrello, Attraversando la carestia. Tanto non si arriva, arriveremo, All'ameba, all'amecca, all'amela, Dietro gli uccelli in fuga, Bassi, Dalla città minata, dal maltempo. Un altro breve testo, in questo modo, apparso negli stessi anni, quindi compreso nell'antologia dei Novissimi. Questi sono i nodi, queste le cicatrici, gli abiti che ha indossato, la stagione in attesa, sull'asfalto dove ancora vivremo, quella nuvola che abbastanza somiglia alla teiera già fredda, con la faccia di uno che sta male, azzurro come il ristorante, la distanza, sebbene siano le nove, i preparativi pressoché ultimati, papaveri distillati, credendo ai miei occhi, sporgendo dal tetto, sulle cime di pini recisi, ma inganni il titolo, garanzia ai passanti, che quasi tutti se ne sono andati, si annidano necessari e la barca che tu non trovi mai, ma necessaria perché attraversiamo, quantunque noi non guardiamo e dove vediamo seppure non c'è rimedio e passano, ancora incerti i luoghi dove confini nettamente segnati ci rivelano. Poi il cielo dovrà pur mutare, come io potrei cambiare di colpo argomento, e pochi se ne accorgerebbero, il tonfo che fruga ancora sordo le ore del pomeriggio, e profondo, e i sassi che hai sotto la schiena o la fuga, di sostantivi corrosi, dalle travolte strutture. Comunque niente di nuovo, la pomice sui gomiti, se non c'è posto che per uno di noi, e appena uscito di casa si imbatte, tu ti imbatti se hai capito quanto ti aspetto. E ora chiuderei con un testo appena più lungo, l'ultimo testo di Caosmogonia, il libro uscito nel 2010. Il titolo è Istruzioni preliminari. Il nostro mondo sta scomparendo. I tramonti succedono ai tramonti. Si può sentirne lo strappo silenzioso, scorrere il sangue, la vita che fugge. Su fogli di carta, corrosi, sbiaditi, accarezzando le parole ancora visibili. Accarezzando le parole ancora visibili, supreme, famose finzioni si dissolvono. Su fogli di carta, corrosi, sbiaditi. I tramonti succedono ai tramonti. In una realtà caotica, ostile e immensa. Non sappiamo chi siamo, né dove andiamo. Non sappiamo chi siamo, né dove andiamo. Le vecchie certezze se ne vanno. In una realtà caotica, ostile e immensa. Supreme, famose finzioni si dissolvono. La nostra urgenza di ordine si annulla. In un reticolato di possibilità infinite. In un reticolato di possibilità infinite, proviamo ogni volta con parole diverse. La nostra urgenza di ordine si annulla. Le vecchie certezze se ne vanno. Tutto si ramifica, si scompone, si mescola. Gli esperimenti non producono un sì o un no. Gli esperimenti non producono un sì o un no. Ma un continuo flusso di probabilità. Tutto si ramifica, si scompone, si mescola. Proviamo ogni volta con parole diverse. Nessuna ricerca di risposte assolute. Poiché ogni sviluppo è segnato dalla discontinuità. Poiché ogni sviluppo è segnato dalla discontinuità, rottura radicale e definitiva con l'evoluzionismo. Nessuna ricerca di risposte assolute, ma un continuo flusso di probabilità. Il punto è dove la catena può essere spezzata. La contraddizione principale muta continuamente. Nella violenza che stravolge la quotidianità. Il punto è dove la catena può essere spezzata. Rottura radicale e definitiva con l'evoluzionismo. Teoria materialista della contingenza. Il tempo in cui l'uno si spacca in due. Il tempo in cui l'uno si spacca in due. Guardando l'evento da prospettive parziali. Teoria materialista della contingenza. Nella violenza che stravolge la quotidianità. Nella durata mutevole delle congiunture. Forze eterogenee si compongono su una linea comune. Forze eterogenee si compongono su una linea comune. Secondo una relazione non predeterminata. Nella durata mutevole delle congiunture. Guardando l'evento da prospettive parziali. Scomporre e ricomporre in equilibri alternativi. La scrittura come un flusso, non come un codice. La scrittura come un flusso, non come un codice. Costruzioni associative e accumulative. Scomporre e ricomporre in equilibri alternativi. Secondo una relazione non predeterminata. Arricchisce il significato rendendolo plasmabile. La forma liberata dalla palude delle sintassi. La forma liberata dalla palude delle sintassi. Sequenza di immagini sparate come slogan. Arricchisce il significato rendendolo plasmabile. Costruzioni associative e accumulative. Rendere partecipe il lettore azzerando il linguaggio. Contro l'abuso, la convenzione, lo svuotamento di senso. Contro l'abuso, la convenzione, lo svuotamento di senso. Non più dominanti e dominati, ma forza contro forza. Rendere partecipe il lettore azzerando il linguaggio. Sequenza di immagini sparate come slogan. L'attacco va minuziosamente preparato. Secondo una prospettiva rivoluzionaria. Secondo una prospettiva rivoluzionaria, un altro mondo sta apparendo. L'attacco va minuziosamente preparato. Non più dominanti e dominati, ma forza contro forza. Si può sentirne lo strappo sonoro. Scorrere il sangue, la nuova vita che arriva. Vi ringrazio.